Salve a tutti. Gli istituti tecnici superiori rappresentano in Abruzzo la novità più interessante degli ultimi anni. Il sistema ITS ha generato nel giro di pochi anni un processo virtuoso che ha il pregio di contemperare tutte le esigenze legate alla alta formazione. La Regione Abruzzo ha creduto fin dal primo momento alla realizzazione di un sistema extrauniversitario che fosse però affiancato all'università con un'alta formazione che potesse essere già consolidata e certificata prima ancora che magari si arrivasse all'università che comunque potrebbe essere lo sfogo successivo. Senza questo però mettersi in competizione fra di loro e quindi rimanere comunque alleati nel puntare a formare i nostri ragazzi per dei posti di lavoro sicuri. L'aver generato un percorso virtuoso tra gli stessi ITS e l'università conferma che l'obiettivo è stato in parte raggiunto. Non nascondo inoltre il favore con il quale questo assessorato accoglie l'indubbia vivacità degli istituti stessi che essendo pienamente autonomi in questi anni hanno avuto il pregio di saper costruire un proprio percorso di crescita partito dalle fondazioni approdato infine negli istituti stessi. L'autonomia di gestione conferma la bontà del lavoro finora svolto con un'offerta formativa diversificata e soprattutto in linea con le richieste delle aziende del territorio come quella che avete proposto in questi anni conferma che il principale obiettivo per il quale si sta lavorando è stato raggiunto e che il futuro è già tracciato. Il nostro portale che avete realizzato è da poco operativo come ho avuto modo di sottolineare è la testimonianza più evidente di una vivacità che non va dispersa alla quale si aggiunge una grande capacità propositiva che sfocia nella qualità dei corsi che ogni anno organizzate. In questo senso e in questa sede mi preme ribadire che l'alta formazione rimane un asset strategico delle politiche formative e la regione con gli ITS punta sempre più a interpretare al meglio l'azione di affidabilità e di concretezza che si mette in campo. Il sistema ITS funziona a livello nazionale come testimoniato da dati statistici e in Abruzzo sembra andare anche meglio.